Oggi è mezzelune, ma non siamo in una puntata di Perati dei Caraibi. Si inizia dal pesto, rucola, olio, sale, mandorle. Mixiamo tutto e si mette da parte. Poi il gorgonzola, uniamo il latte e mescoliamo. Poi induia quanto basta. Ecco il nostro ripieno. Ultimi sforzi, tagliamo il panetto di pasta all'uovo e lo stendiamo. Aiutiamoci con un coppapasta e ritagliamo dei cerchi che andremo a riempire con la farcia gustosissima appena preparata. Chiudiamo a mezzaluna, cuociamo la pasta ripiena e poi la passiamo nel burro fuso per renderla bella lucente. Infine impiattiamo con la salsa alla rucola, un po' di pepe nero da servire rigorosamente con sei luppoli, bocca rossa, birrificio Angelo Puoretti. Gustate di questo piatto e scoprete altre curiosità in descrizione.